stavolta un'altra novità mondiale una borsetta che si chiama lay and go traveller che cosa di diverso vediamo togliamola dalla sua custodia si apre si mette per terra centrata e ci si mette sopra non dentro sopra quello che uno vuole portare che ne so tutta la roba del bagno dentifrici eccetera oppure vuole rapidamente accedere e rapidamente chiudere perché perché funziona in questo modo si tira il tavolo e si ha ho esagerato col contenuto comunque il principio è questo si ha una borsetta con la sua maniglietta pronto per essere portato in giro oppure utilizzata piace